bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi mamma mia ma quante novità ci sono in questa nuova stagione 3 di fortnite e soprattutto come vi sembra come season a caldo devo dire che mi piace davvero tantissimo stiamo vedendo veramente la punta dell'iceberg di quello che ci aspetterà fino ad agosto perché durerà così tanto e credetemi ne vedremo delle belle prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro supporto mi raccomando non dimenticatevi di iscrivervi ai miei canali e l'ho persa e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica dei miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi perché sono stati trovati un sacco di pack criptati ancora non resi pubblici nei codici sorgenti il primo si chiama pack mille 3 ci sono delle cose riguardanti le location che arriveranno o meglio l'acqua si abbasserà rifarà vedere tante location che adesso sono sommerse e saranno totalmente diverse da come eravamo abituati vedremo anche dei nuovi deltaplani vedremo anche dei nuovi picconi questo tutto nel pack mille 3 ma nel pack mille 6 invece arriverà l'agent jonesy quello che abbiamo avuto modo di vedere nell'evento quello vestito bene in poche parole ci saranno delle sfide aggiuntive nel pack 102 vedremo invece altri deltaplani nuovi stili e poi dovrebbero arrivare finalmente i pets abbiamo visto un video ieri per chi l'altro ieri per chi l'ha guardato il funghetto che segue il personaggio si sta lavorando su questa cosa insomma ragazzi un sacco di cose stanno per arrivare e andiamo avanti a parlare dell'argomento più interessante uno dei più interessanti di questo video ovvero sia questa skin criptata che poi tanto criptata in realtà non è perché sto per farvela vedere ma se non avete ancora capito la forma si ragazzi si tratta della renegade rider ovviamente non la versione originale ma questa versione una variante molto interessante sembra quasi far parte di un bundle di un pack non so perché mi dà l'impressione dell'ava legends pack ovviamente non farà parte di quello stesso pack ma per tutti quelli che hanno il desiderio di giocare con una renegade anche se non oggi probabilmente e nei prossimi giorni perché già presente in game ancora non rilasciata sarà possibile prenderla non è ancora in realtà confermato che sia in un pack quindi potrebbe anche arrivare nello shop ma secondo me secondo me no non lo so ragazzi non vorrei che facessero una roba tipo quando hanno fatto con l'elfo nelle scorse season che hanno infilato dentro l'elfo nel frozen legend pack non lo so ragazzi staremo ovviamente a vedere e la cosa che ci lascio un pochettino perplessi è che nella stessa cartella c'è anche questa skin criptata che però purtroppo non abbiamo da vedere in chiaro quindi se qualcuno ha qualche idea di che cosa possa essere beh è ben accetto potrebbe anche semplicemente essere una seconda skin che farebbe parte dello stesso bundle e ho anche uno spezzone video prima di andare avanti ve la faccio vedere direttamente in lobby eccola qua ragazzi la renegade ovviamente non è bella quanto quella originale dai non scherziamo non prendiamoci in giro però sicuramente molto interessante noto adesso che gli stivali in realtà sono infuocati quindi forse ci ho preso con il discorso del lava legend pack insomma solamente il tempo ci potrà far delucidare le nostre idee e andiamo avanti a parlare di un altro argomento perché è presente una cartella nei codici sorgenti che si chiama phoenix summer innanzitutto summer è estate quindi lo sapete ovviamente potrebbe essere un evento o forse qualcosa dedicato alla 14 giorni di fortnite vi ricordate ragazzi l'anno scorso ci sono state le due settimane dove il team di epi games è in vacanza quindi l'azienda è chiusa e vengono rilasciate sfide giornaliere con premi giornaliere in giornaliere in realtà in questo pack c'è dentro anche il bundle di loser fruit è un bundle ancora sconosciuto che si chiama henchman bundle quindi il bundle degli scagnozzi e come ultima riga lo shadow pickaxe pack anche qua potrebbe essere un pack che comprende solo dei picconi non si sa ovviamente ancora non è non è possibile sapere di che cosa si sta parlando però tante novità eventi bundle e chi più ne ha più ne metta alcuni dicono che molto probabilmente nell'evento che vi ho appena detto potrebbero arrivare ad esclusione ovviamente della prima skin che è quella di loser fruit e dell'ultima skin della prima riga che ne parleremo fra pochissimo tutte queste skin che però non saranno ovviamente il regalo quindi arriveranno nello shop ma potrebbero far parte di questo evento quindi una skin nuova ogni giorno sono davvero molto interessanti mi viene un attimo all'occhio la gente del caos d'oro non si sa ancora nulla andremo a vedere se c'è da livellare ve l'avevo già mostrato nel video di ieri della pace ve lo rifaccio vedere per chi se lo fosse perso immagine ufficiale del bundle di loser fruit si vedono per la prima volta i picconi doppi e c'è anche nel pack il suo balletto quello dove annaffia la fragolina arriverà nello shop dovrebbe costare 1500 v bucks e come vi avevo già detto farà parte delle icon series andiamo avanti a parlare però di un altro argomento ragazzi perché per tutti i possessori di salvo al mondo arriverà il primo pack ufficiale per salvo al mondo con tanto di skin l'orsacchiotto metal team leader si chiama per la precisione un'arma nuova che dovrebbe essere il papabira schematic 500 ticket x ray che sono i biglietti per il ama di questa season e 1000 v bucks non sappiamo ovviamente il prezzo se dovesse costare penso proprio di sì perché avendo dentro i v bucks non credo che vengano regalati ho un'immagine un pochettino più ad alta definizione ed eccola qua ragazzi l'orsacchiotto è davvero molto carino solo disponibile vi ripeto per salvo al mondo quindi io se dovessi dire una stima credo che costerà sui 9 euro e 99 così intanto ci ridanno i 1000 v bucks e in poche parole non hai speso niente hai semplicemente pagato 1000 v bucks e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché c'è un nuovo video e una nuova roba interessante ne avevamo già parlato un mese fa abbondante le voci giravano le voci sono confermate voglio dirvi che quello che vedete alla sinistra è un'immagine dedicata al firefly jar che cos'è il firefly jar allora è un barattolo che verrebbe utilizzato per acchiappare le luciole firefly dovrebbe essere la traduzione di luciole il problema è che queste luciole sono incendiarie vi faccio vedere un attimo l'animazione perché guardate che cosa succede lasciate perdere la skin serve solo per farvi vedere vedete voi acchiapperete appunto delle luciole in questo barattolo e lanciando il barattolo contro le strutture guardate un po che cavolo succede è già le strutture piglieranno fuoco ragazzi quindi si parlava del fuoco questa è una delle novità che fanno parte del chaos engine quindi il motore grafico entrato in vigore oramai da un bel po di mesi e come notate le strutture incendiate nel tempo si distruggono quindi un ottimo modo per riuscire magari a giostrarvi meglio un attacco oppure semplicemente stanare i nemici e andiamo nell'ultimissimo argomento di oggi ragazzi perché c'è un nuovo punto di interesse nuova location che ancora non è presente in mappa e che potrebbe essere una location dedicata ad acqua man sappiamo che acqua man arriverà completando le sfide più o meno come deadpool quindi verrà regalata come skin bellissimo il fatto che venga regalato questo è il nuovo punto di interesse come vedete siamo indicativamente tra lo squalo sabbie sudate e verso dietro c'è parco pacifico una distesa enorme che potrebbe essere riempita d'acqua per quanto ne sappiamo o potrebbe esserci costruito sopra qualcosa la storyline di acqua man sarà una sideline in realtà quindi una storia secondaria relativa a quella che ancora non conosciamo essere la storia principale ma davvero tanta tanta roba insomma ragazzi le prime news di questa season io ve le ho dette vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video mi raccomando non vi dimenticate di lasciare un bel like iscrivetevi ai miei canali anche al secondo canale e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao 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 ciao